Le palme della villa comunale di Vittoria sono a rischio. A minacciarle è il solito terribile punteruolo rosso che in mezzo a Europa ha già fatto strage di Fenix Canariensis, la splendida palma delle Canarie, un tempo lussureggiante anche in Sicilia. Al giardino pubblico vittoriese di queste palme ce ne sono diverse e sono tutte monumentali, decine se non centinaia di anni di vita. Secondo il segretario cittadino De Verdi Gianni Stracquadagno, le palme della villa possono essere e devono essere ben tutelate. Esistono infatti due metodi per combattere il punteruolo rosso, il bombardamento palma per palma con un fascio di microonde e il trattamento chimico. Il primo metodo si usa sulle palme già attaccate e fa strage di punteruoli, ma non ne impedisce una nuova infestazione e costa parecchio, 250 euro a palma. Il secondo invece consiste nell'utilizzo preventivo di alcuni fitofarmaci specifici che non devono però venire a contatto con persone o animali perché sono pericolosi per la salute. La villa comunale però può essere chiusa al pubblico per alcuni giorni e quindi Stracquadagno invita i nuovi vertici dell'AMIU che hanno in carica il servizio di manutenzione al verde pubblico a predisporre uno o più cicli di trattamenti per le piante del giardino pubblico, prima che sia troppo tardi.